Parliamo appunto di educazione e empatia. Che cos'è però l'empatia? L'empatia è la capacità di medesimarsi nell'altro, di aiutare nel modo più vicino possibile di capire comunque l'altro, di mettersi nei propri panni, di riuscire ad avere un confronto e un punto di contatto con il nostro utente, con la persona alle quali dobbiamo intervenire, alle quali dobbiamo svolgere un colloquio e quindi attivare il nostro lavoro educativo. Spesso questo termine, ho potuto anche vedere nella mia carriera, durante il punto del mio lavoro e anche nel mondo diciamo accademico, universitario e nel mondo professionale, spesso e volentieri è stato anche diciamo un po', lasciatemelo dire, un po' abusato.